Vedovo da due anni si sentiva solo sconfortato, chiuso nei ricordi e da un lockdown imposto dall'emergenza sanitaria che proprio agli anziani, proprio a Natale, ha tolto tanto, ha tolto troppo. E così dopo aver visto un servizio televisivo in tv, un 89enne di Torre Santa Susanna ha pensato bene di alzare la cornetta e chiamare i carabinieri. E' fatto bene perché i militari del nucleo radiomobile di Francavilla Fontana, un cuore grande così, hanno fatto visita all'anziano scambiando quattro chiacchiere e chissà, magari bevendo un caffè davanti a quelle vecchie foto di quando, ha raccontato il signore con orgoglio, aveva svolto servizio militare presso il quarto reggimento artilleria di Mantova. L'anziano ha raccontato la sua vita, il passato e il presente, ha raccontato di quel momento di sconforto e di quella richiesta di aiuto, di semplice compagnia. Alla fine i carabinieri hanno salutato e sono andati via tra il ringraziamento dell'89enne che in un pomeriggio di Santo Stefano ha trovato calore umano e sorrisi un cuore grande così.